Se vuoi rinfrescarti con un buon gelato alla frutta, devi assolutamente provare il gelato al melone. Prendiamo il bimbi e prepariamolo al volo. Ingredienti 400 g di melone cantalupo maturo e profumato 100 g di zucchero 200 g di yogurt alla vaniglia 2 vasetti Taglia il melone a dadini e mettilo a congelare nel freezer. Versa lo yogurt nelle formine del ghiaccio e mettilo a congelare nel freezer. Togli la frutta e lo yogurt dal freezer 5 minuti prima di iniziare a fare il gelato. Polverizza lo zucchero. Aziona il bimbi per 20 secondi a velocità 9. Aggiungi la frutta e lo yogurt a dadini e mescola. Aziona il bimbi per 20 secondi a velocità 7 e poi per 20 secondi a velocità 4. Buon appetito e alla prossima ricetta! Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante Mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook, all'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare? Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette.